Il stop è non perfetto che permette alla difesa di allontanare, poi Lazio 10, nuovo cross, colpo di testa di Piccoli, la palla di Magneri, Doric! Di testa di Piccoli, la palla di Magneri, Doric! Il volo con il sinistro, vero da uno! Il giro Arslan, oggi prova ad accentrarsi, appoggio con il destro in mezzo, Samartic dentro, Deulofeu, Beto, Beto, il paleggio dell'Udinese! Il giro Arslan lascia l'incarico della battuta, Samartic, pallone al quarto in mezzo! Eludi pallone al quarto in mezzo! Eludi vantaggio al minuto 8! Eludi vantaggio al quarto in mezzo!